I racconti del piccolo drago. W. Vendetta. Puoi cercare vendetta per l'uccisione dei tuoi fratelli. Puoi individuare i colpevoli. Puoi far loro assaggiare la tempra della tua spada, assaporare il gusto della perversione. Puoi guardarli negli occhi mentre tirano gli ultimi sospiri. Puoi rigirare la lama nella carne per vederli soffrire ancora. Fermati e rifletti. Tutto questo ti ridarà ai tuoi fratelli. Quando l'odio riesce a trasformarsi in compassione, la visione del quadro è più completa. Il bambino è diventato uomo. Trova sempre il giusto equilibrio tra le due parti. Fa in modo che l'odio non sopravvalga mai la ragione.